Hai mai sognato di trovare la tua crema viso ideale? Sfortunatamente fino ad ora nel mercato puoi trovare solo prodotti standard. Ma vuoi veramente essere considerati come uno standard? Noi crediamo di no. La tua pelle è unica ed è per questo che da ora puoi creare la tua crema viso per rispondere alle tue esigenze cutanee. Ecco perché ti presentiamo anche a te. Abbiamo trovato il modo di dare a ciascuno la possibilità di creare la propria crema viso su misura con ingredienti di origine naturale dermatologicamente testati. Pensa alla vita di ogni giorno. Probabilmente ti riconoscerai in uno di queste situazioni. Sai esattamente quello che vuoi ma di fronte a tutta quella scelta non riesci a trovare la crema viso fatta apposta per te. Puoi ricoprare un sacco di prodotti della grande distribuzione per soddisfare tutti i tuoi bisogni cutani. Oppure puoi cimentarti a fartela da sola impiegando molto tempo e denaro senza successo con risultati talvolta pericolosi per la tua pelle. Invece sul nostro sito potrai creare la tua crema viso. Grazie a questo percorso guidato ti basterà indicare le tue caratteristiche cutanee, le effetti che ti aspetti. Grazie alla nostra esperienza ti guideremo nella scelta dei tuoi ingredienti come attivi, estratti e la fragranza. In pochi clic creerai la tua crema personalizzata. Dopodiché i cosmetologi e i nostri esperti di E.C.T.E. elaboreranno la formulazione ad hoc e la produrranno su misura per te fornendo tutti gli strumenti tecnici di cui hai bisogno. Eccoci qua. Siamo nel laboratorio dove ogni giorno formuliamo e produciamo i cosmetici che voi stessi create. Abbiamo cominciato con le creme e ora vogliamo estendere la nostra gamma dei cosmetici personalizzabili. Infatti stiamo già sviluppando sieri, maschere viso, creme cellulite e molto altro, il tutto 100% su misura per la tua pelle. Per farlo dovremo eseguire numerosi test di qualità su tutti i prodotti che svilupperemo come analisi microbiologiche, test di sicurezza che coinvolgeranno dermatologi, test di stabilità chimico-fisica di centinaia di formulazioni, tutte diverse tra loro e molto altri. Ed è proprio per questo che siamo su Eppela. Sostenendoci, insieme, porteremo la personalizzazione cosmetica a livelli mai visti prima. Grazie a tutti.